e buona sera buona sera buona sera eccoci benvenuto grazie mille per aver accettato l'invito grazie a voi allora diciamo che speravamo di avere più tempo speravamo di non essere poi nel mezzo di questa situazione incredibile quindi comunque sia cerchiamo di rimanere sul pezzo e di parlare anche di giustizia e di magistratura visto che comunque sia poi ci sono tante tematiche anche attuali sotto quel punto di vista lì con lei Luca Palamara quindi io faccio parlare Francesca perché lei l'esperta e so che ha studiato molto anche il suo libro quindi mi taccio sì sì il primo quello sul sistema io le volevo chiedere intanto per chi non la conoscesse di presentarsi appunto e spiegare quali cariche ha ricoperto quando era magistrato perché comunque sappiamo che è stato il il più giovane presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati e come mai appunto ha deciso di fare il magistrato ecco sì non è mai facile come dire fare le auto presentazioni e anche brevissima se vuole nel 1996 sono entrato in magistratura sono stato pubblico ministero alla procura di Reggio Calabria e poi alla procura di Roma nel corso della mia carriera ho avuto l'onore di ricoprire le cariche più importanti che sono quella di presidente dell'Associazione Magistrati e di componente del Consiglio Superiore della Magistratura nel 2019 ci sono state delle vicende che hanno riguardato la mia persona e che hanno portato al centro dell'attenzione il meccanismo delle nomine più importanti all'interno della magistratura nel 2021 ho deciso di raccontare in un libro il sistema quella che era un racconto per squarciare un velo di ipocrisia per rendere un po' i dotti cittadini di come realmente hanno funzionato le cose nel mondo della magistratura e nel rapporto magistratura politica e tra gli stessi magistrati nel febbraio del 2022 cioè due settimane fa è uscito un nuovo racconto sempre fatto con il direttore Sallustri che oggi è nelle librerie che si chiama Lobby e Logge e che analizza una sorta di dark web di questo mondo esterno alle istituzioni e che una volta per tutte si propone di chiarire anche come funzionano le cosiddette logge si è molto parlato ad esempio di una logge a Ungheria e quali sono stati realmente le situazioni interne alla magistratura e perché determinati processi non si svolgono secondo un crinale di uniformità ok e passando poi in particolare al suo ruolo all'interno dell'Associazione Nazionale Magistrati lei nel libro raccontando al dottor Sallustri la vicenda e quello che accadeva all'interno ha detto che in quel momento era come se si facesse politica non all'interno dei partiti ma all'interno di un cosiddetto sistema politico io ho voluto in un certo qual modo scattare una foto esistente all'interno della magistratura oggi ci sono circa 9-10 mila magistrati che altro non sono che una sorta di comunità che vivono un po' le stesse situazioni che risente il paese all'interno della magistratura c'è sicuramente una componente più ideologizzata che appartiene alla cosiddetta sinistra giudiziaria e una parte che invece ha dei tratti più tipici del lavoro della pubblica amministrazione quindi è portata più come dire ad enfatizzare da una parte il ruolo burocratico in mezzo c'è come dire un'altra parte della magistratura che tende un po' a costituire la cosiddetta parte moderata tutto questo che cosa ha creato il fatto che i magistrati si sono divisi in delle correnti le correnti che cosa sono una sorta di fotocopia di quello che sono i partiti nel mondo della politica solo che la magistratura per come è definita nella Costituzione è definita come un'istituzione terza e imparziale e spesso questo non è accaduto si è creata un po' una sorta di cortocircuito soprattutto quando tra il 2008 e il 2013 sono capitati delle situazioni che hanno portato la maggioranza di centrodestra ad avere una maggioranza schiacciante nel paese e nei fatti la magistratura la associazione nazionale magistrale in quegli anni ha svolto una sorta di ruolo di opposizione politica io penso che questo sia uno dei punti da cui partire è per fare una riflessione cioè come ricondurre ognuno nel proprio ambito tanto la magistratura quanto la politica tenendo in considerazione un altro aspetto che siamo nel trentenale di Tangentopoli quest'anno nel 1993 fu il Parlamento a decidere di eliminare l'autorizzazione a procedere che cosa era l'autorizzazione a procedere una sorta di linea di confine nei rapporti tra la magistratura e la politica nel senso che ogni indagine doverosa da parte della magistratura però aveva questo istituto previsto appunto nell'articolo 68 che in qualche modo tutelava il Parlamento da possibili strumentalizzazioni e azioni persecutorie della magistratura venuto a meno quello le indagini rischiano di essere portate su un terreno di contrapposizione e tutto questo a mio avviso a distanza di 74 anni data in cui è entrata in vigore la Costituzione necessita di un ammodernamento proprio per rispondere anche a quelle che sono legittime domande esigenze dei cittadini i giudici sono sempre terzi imparziali punto interrogativo no infatti io le volevo chiedere questo perché comunque diciamo che lo scandalo è stato nel momento in cui si è saputo di questo meccanismo di lottizzazione diciamo di alcune posizioni all'interno delle procure perché è quello che poi dopo si descrive all'interno del libro e infatti poi a un certo punto nel 2014 se non erro è diventato membro togato del Consiglio Superiore della Magistratura quindi io le volevo chiedere come funziona questo sistema di cui si è tanto parlato e di cui si dibatte cioè queste correnti come cercavano di avere un apporto dai politici perché lei dice appunto all'interno del libro che vige una sorta di regola aurea in un certo senso che è una regola in cui ci sono tre punti che sono appunto la magistratura un partito politico confacente e un giornale amico e che paradossalmente poi questa è la domanda che però le farò successivamente bisognerebbe separare quasi le carriere tra magistrati e giornalisti più che tra all'interno delle funzioni stesse della magistratura quindi mi chiedevo su questo come funzionava come avvenivano questi accordi quindi se internamente o esternamente tra i capi delle correnti come venivano scelti tra l'altro questi esponenti all'interno delle correnti e poi procedo con con le altre quindi intanto andiamo con ordine che cosa raccontiamo nel nuovo libro Lobby e Logge raccontiamo come funziona il meccanismo interno delle nomine per sfatare quello che dicevo all'inizio è stato un racconto ipocrita cioè l'idea di far finta di non sapere come spesso la cosiddetta appartenenza correntizia potesse privilegiare una nomina anziché un'altra di fronte a questa ipocrisia proprio il dovere di chiarezza mi ha imposto di raccontare come andavano quelle vicende e come avvengono i meccanismi delle nomine è chiaro che nel 2007 c'è stata una legge di modifica dell'ordinamento giudiziario che ha voluto privilegiare il merito anche all'interno della magistratura a scapito dell'anzianità una volta invece prima del 2007 si privilegiava il criterio dell'anzianità il più anziano che faceva una domanda per un importante ufficio giudiziario veniva premiato nel 2007 si decide di introdurre il criterio del merito questo criterio cambia le carte in tavola e le cambia ancora di più quando poi nel 2015 l'età pensionabile viene abbassata da 72 a 70 anni come se fosse stato tolto un tappo improvvisamente ci sono più di mille nomine da effettuare chi viene privilegiato in questo contesto sicuramente chi appartiene ad una delle correnti perché le correnti sono come dire quei contenitori grazie ai quali si viene eletti al CSM e chi viene votato o meglio ancora chi vota poi in qualche modo vuole tenere e stabilire un rapporto diretto con l'eletto chi non appartiene a quel mondo viene in qualche modo non dico danneggiato ma pretermesso cioè viene non viene considerato l'altro aspetto da tenere in considerazione che all'interno del CSM che oggi prima delle modifiche è composto da 24 componenti 16 eletti dai magistrati 8 dal Parlamento convivono anche appunto 8 componenti che non sono magistrati che vengono chiamati per questo motivo laici eletti dalla politica sono espressione della politica quindi nel CSM è fisiologico che magistratura e politica in qualche modo vengano a contatto vengono a contatto in quell'ambito in quel contesto ma vengono in contatto anche con i referenti di quei componenti laici che hanno nominato e che vogliono capire un po' come funziona il mondo e il meccanismo della magistratura solo che chi è che prevale realmente dentro e prevalgono gli accordi tra le correnti numericamente perché una volta che si fa un accordo tra 16 ad esempio componenti dei magistrati si ottengono le maggioranze per essere nominate tutto questo all'interno della magistratura come dire addestato inizialmente tra virgolette scandalo forse perché doveva essere accreditata l'idea che accordi tra le correnti potevano in qualche modo favorire questo anziché l'altro nella mia esperienza di magistrato che ha ricoperto cariche importanti le cose sono andate bene quando io avevo creato un'alleanza con la sinistra la mia corrente era una corrente di centro che quindi privilegiava un accordo con la sinistra iniziano ad andare male quando invece c'è uno spostamento con la corrente tra virgolette di destra più meno supposizioni come dire del cosiddetto massimalismo giustizialista da quel momento guarda caso iniziano a venire fuori tutti i problemi viene messo un trojan quel trojan fa saltare una delle importanti nomine del procuratore di Roma e questa situazione chiaramente che cosa comporta che quella maggioranza di centro-destra tra virgolette viene sostituita da una maggioranza di centro-sinistra sovvertendo sovvertendo quello che anche all'interno della magistratura era stato il voto degli elettori ogni riferimento ai fatti e le vicende che riguardano la politica è puramente casuale mi verrebbe da dire però così funziona e funziona anche che oggi la vera centrale di potere se così mi viene permesso come racconto nel libro è caratterizzata proprio da questo rapporto stretto anche che si verifica non solo e non tanto con un partito anziché un altro all'interno della magistratura ma anche col mondo dell'informazione che deve fungere da una sorta di gran cassa esterna tanto delle indagini soprattutto quando riguardano questo quell'uomo politico quanto anche però delle posizioni che vengono assunte dalla magistratura associata che spesso e volentieri ripeto vengono in qualche modo strumentalizzate e finiscono per sostituirsi a quella che è l'opposizione politica questo però un po' va a contrastare con tutti i principi che sono all'interno della Costituzione cioè nel senso i 27 e con 3 più che contrastare io richiamo c'è un importante articolo pure di Carlo Nordio di alcuni giorni fa un editoriale su Il Messaggero che che cosa dice dice che dopo tanti anni tutte le leggi devono essere in qualche modo rimodernate ammodernate tra queste e la Costituzione e il sistema della magistratura comunque è un sistema che ha 74 anni le correnti sono nate negli anni 60 penso che sia giusto svolgere una riflessione senza sottrarsi alle responsabilità soprattutto alla luce dei fatti delle vicende che sono accadute e dare al paese una spinta riformatrice soprattutto delle cose che non hanno funzionato nel rapporto politica magistratura e anche all'interno della magistratura stessa sono venuti fuori i problemi che hanno riguardato gli accordi dalle nomine le correnti si ritiene che in qualche modo si debba limitare questo potere allora bisogna come dire attuare delle riforme incisive non lo è quella di cui si discute in questi giorni infatti io lo volevo chiedere la riforma cartabia perché la riforma cartabia si propone in qualche modo di porre un argine a questo fenomeno di cui stiamo parlando in che modo modificando la legge elettorale di nomine al CSM ma cosa cambia? nulla esatto cioè non è che cambiando un collegio come oggi unico nazionale e prevedendo quattro collegi le correnti fanno un passo indietro anzi si organizzeranno in maniera diversa per trovare un meccanismo di riparazione a questa situazione allora io penso che quando accadano queste situazioni sia giusto in qualche modo invece adottare le contromisure più efficaci le contromisure più efficaci sono quelle che in qualche modo quando io ero presidente dell'ANM che cosa temevo? la riforma che in qualche modo avrebbe tolto come dire il giocattolino dalle mani che era quello di nominare indicare gli eletti al CSM che di fatto è quella che poi può cambiare che è quella del sorteggio che è l'unica riforma che in qualche modo potrebbe essere realmente incisiva invece il sorteggio nell'attuale proposta di riforma sarebbe solamente relativamente a quando non ci fossero sei candidati giusto? ancora diciamo che il sorteggio sì è un'ipotesi del tutto residuale ma il tema di fondo che io voglio sollevare è quello di creare anche all'interno della magistratura una nuova classe dirigente che sappia in qualche modo interpretare le situazioni invece per quanto riguarda la proposta che diciamo che ha creato un po' di discussioni sulla valutazione della professionalità potrebbero essere ammessi anche gli avvocati e i professori dei consigli giudiziari secondo lei potrebbe essere una visione esterna o un'ingerenza nel potere della magistratura visto proprio come potere giudiziario quindi per sempre la separazione dei poteri questo è un altro grande tema la magistratura è spesso refrattaria a questo tipo di riforme perché come dire la cassa dei privilegi non prevede che qualcuno dall'esterno si possa intromettere e quindi è sempre stato in qualche modo malvisto la possibilità che gli avvocati possano comporre i consigli giudiziari che sono una sorta di mini consiglio superiore della magistratura nei singoli distretti io penso che non bisogna avere timore di aprirsi all'esterno perché oramai il lavoro del magistrato comunque è un lavoro che è sotto gli occhi riflettori di tutti è ovvio che la presenza degli avvocati non deve essere come dire una presenza di un avvocato che è in contrasto con un magistrato che ha adottato il provvedimento bisogna prevedere dei meccanismi quali i presidenti dei singoli consigli dell'ordine ad esempio che abbiano un ruolo istituzionale che in qualche modo possono portare anche il parere del mondo dell'avvocatura e del mondo esterno sull'attività e lo svolgimento dell'attività della magistratura d'altra parte al consiglio superiore della magistratura già la costituzione che prevede la possibilità che tra i professori in maniera giuridica gli avvocati che siano iscritti da più di 15 anni all'albo ci siano la possibilità appunto che ci siano degli avvocati grazie Ribera poi le volevo dire anche un'altra cosa perché leggendo appunto il suo libro lei a un certo punto il dottor Sallusti le fa una domanda dicendo appunto che lei spesso in pubblico ha fatto dei discorsi volti al cambiamento della modernizzazione della magistratura però poi alla fine ha assunto una posizione conservativa all'interno e innanzitutto le volevo chiedere come mai e dall'altra parte volevo chiederle se dall'interno c'è stato qualcuno che ha cercato di svelare o di parlare di questo sistema e si è stato ostacolato guardi io penso che all'interno della magistratura tutto quello di cui stiamo discutendo sono temi di discussione che da sempre esistono non è mai facile parlare di se stessi perché più che le parole contano i fatti sono i fatti che qualificano le persone e i comportamenti io penso nei fatti e nei comportamenti di aver cercato nei ruoli da me rivestiti di pormi dei problemi che riguardavano più in generale il mondo della magistratura all'esterno e l'ho fatto soprattutto in un anno particolare nel 2017 quando per la prima volta nella storia della magistratura le cariche apicali della magistratura quello del primo presidente della Cassazione e del procuratore generale della Cassazione sono stata a pannaggio di magistrati che non appartenevano alla cosiddetta sinistra giudiziaria quello per me era uno dei segnali di cambiamento l'idea in qualche modo di depoliticizzare la magistratura di ideo dirigizzarla senza ovviamente in alcun modo criticare chi torno tra poco per Biden apparteneva alla sinistra giudiziaria però era un segnale che veniva dato in quel mondo come ho detto prima quando c'è stato questo spostamento comunque sono nati tutti i problemi che poi hanno riguardato il mondo della magistratura quindi a chi mi dice quando ho parlato perché ho parlato che cosa ho fatto dico che dentro la magistratura la volontà di modernizzarla di affrontare tutti i problemi perché poi quelli di cui parliamo sono problemi che riguardano tra virgolette la gestione del potere in mezzo o ancora più importanti sono tutti i problemi che poi riguardano il quotidiano esercizio della giudizione i tribunali che non funzionano la mancanza di mezzi di personale sono tutti temi che debbono essere affrontati se però si ha il coraggio di affrontare a monte quelle che sono le grandi tematiche che riguardano il potere e l'ordinamento giudiziare assolutamente io le volevo chiedere anche un altro paio di cose poi la lascio mandare innanzitutto mi aveva colpito una parte relativa alla posizione delle donne cioè che ha raccontato di fatti spiacevoli accaduti ad avvocate giornaliste anche a sue colleghe all'interno dei tribunali io ho fatto la pratica forense quindi ho avuto a che fare un po' con il mondo dell'avvocatura più che quello della magistratura e ho notato che in determinati casi c'è un po' di esclusione nei confronti delle donne o comunque un atteggiamento mi passo il termine sessista per certi versi lei come l'ha vissuta questa cosa e ovviamente non parlo di tutto quanto di tutto l'ambiente ma solo sempre di quelle pecore nere tra virgolette che non adempiono adeguatamente ai loro compiti quindi chiedevo c'è anche questa questa fatti specie all'interno del discorso dei tribunali più in generale della giustizia sono situazioni che si vivono con disagio soprattutto quando riguardano persone rispetto alle quali si è legati da vincoli di amicizia e di stima purtroppo sono situazioni che accadono all'interno dei tribunali non sempre vengono denunciati non sempre vengono dichiarati ma sono situazioni che non dovrebbero mai esistere accadere assolutamente e prima di farle l'ultima domanda le volevo chiedere visto che appunto sono laureata in giurisprudenza ma ci sono anche tanti ragazzi che ci seguono che sono studenti o comunque si stanno laureando o sono laureati e appunto si parlava anche della questione dei neomagistrati dei concorsi o degli assistenti di studio dei giudici della Corte Costituzionale quindi cosa direbbe ai giovani che sono nel mondo della legge e che credono nella magistratura che credono nella giustizia e che cercano di entrare quindi in questo mondo e vengono a sapere magari dell'esistenza di queste circostanze quindi del sistema o di favoritismi e quindi magari perdono fiducia in quell'ambiente in cui credono fin da giovani chiudiamo diciamo ricollegandomi la sua domanda iniziale lei giustamente mi ha fatto presentare dicendovi perché entra in magistratura sono gli anni 90 in quegli anni sono anni particolari per l'Italia nel 1992 scoppia quella grande richiesta che viene chiamata da Argentopoli che poi come dire verrà vista con luci ed ombre ma soprattutto sono anche gli anni delle stragi dove muoiono due grandi magistrati e poi saranno degli eroi come tutti gli uomini della scorta e degli appartenenti alle forze dell'origine Giovanni Falcone e Paolo Borsellino quindi in quegli anni c'è sicuramente una grande carica e spinta ideale per fare il magistrato perché il magistrato in quegli anni viene come dire assume nella società la veste di chi in qualche modo deve avere una funzione salvifica sono gli anni in cui chi entra in magistratura entra principalmente per fare il pubblico ministero perché ha come modello quello che sta avvenendo nell'indagine milanese solo che poi come dire spesso la realtà è diversa dall'apparenza si iniziano a capire a valutare tante situazioni e tante cose che in qualche modo non hanno funzionato però si entra in quegli anni con questa idea oggi indubbiamente per chi si aginge a diventare magistrato chi vuole fare il concorso viviamo una realtà totalmente diversa trent'anni dopo c'è stata la pandemia c'è stata questa grande crisi che ha attraversato il mondo della magistratura ma io ci sono state situazioni che riguardano anche lo svolgimento di un concorso di un concorso che inizialmente ha subito dei rallentamenti che ha visto anche come dire modificare le modalità di accesso ma il tema di fondo è che quegli episodi anche di favoritismi che spesso in qualche modo ricorrono soprattutto nello svolgimento degli esami orali non devono far perdere la fiducia a quei tanti laureati che secondo me si trovano di fronte a una nuova sfida quella di dare al paese una magistratura moderna partendo anche dalle situazioni che non hanno funzionato le situazioni che non hanno funzionato sono accadute adesso io penso che aspetti alle nuove generazioni quello di poterlo superare di informarsi di capire bene quello che è accaduto che è un aspetto diverso ripeto rispetto appunto all'esercizio della giurisdizione cioè qui non parliamo di come si fa il lavoro del magistrato ma parliamo della gestione di chi governa i magistrati quello che tanto per intenderci i laureati studiano a diritto costituzionale in via come dire non molto approfondita perché la parte relativa alla magistratura del CSM è un piccolo capitolo nei libri di diritto costituzionale le materie del concorso sono materie più complesse e l'agurio e l'aspicio e l'in bocca al lupo a tutti i giovani che sentono che proprio da queste vicende possono ancora di più avere la voglia di riscattare un'istituzione che è fondamentale nel vivere civile chi studia per diventare magistrato sa benissimo che un paese ha bisogno di giudici terzi imparziali di una magistratura autonoma e indipendente che però lo sia non a parole ma nei fatti e solo in quel modo con quei meccanismi io penso che si potranno affrontare le nuove sfide che l'era post-pandemica ci pone di fronte assolutamente un'ultima cosa invece ai cittadini che hanno perso la fiducia nella magistratura e nella giustizia e più che altro le vorrei chiedere più lei come si sente ora da privato cittadino ad essere giudicato magari dai suoi ex colleghi se si fida se ha fiducia nella magistratura e se magari con questo referendum sulla giustizia e quindi i cinque quesiti che sono stati dichiarati ammissibili dalla Corte Costituzionale ci sia la possibilità magari di riavvicinare la popolazione al mondo appunto della magistratura e del diritto anche se comunque sappiamo che con l'inammissibilità dei referendum eutanasia e cannabis diciamo che c'è una forte difficoltà ci sarà probabilmente nel raggiungere il quorum chi è stato magistrato si sente sempre magistrato non smette mai di indossare nella toga nonostante appunto poi le situazioni della vita ti aprono nuove possibilità e nuove situazioni discorso fatto per i giovani laureati vale anche per i cittadini la mia esperienza mi insegna che dopo i fatti che mi hanno riguardato che hanno riguardato il mondo della magistratura mi ha colpito vedere piazze piene cittadini che volevano conoscere realmente le storie un libro che ha avuto grande successo nelle librerie ecco il fatto che poi i cittadini siano chiamati a votare referendum per me è un esercizio di democrazia significa coinvolgere i cittadini in temi che oramai sono diventati di pubblico interesse tanto per essere chiari il discorso della riforma del CSM o della custodia cautelare o della separazione delle carriere non sono più temi argomenti che rimangono tra virgolette recintati solo nell'ambito di chi deve studiare laurearsi o vincere un concorso ma sono temi sui quali i cittadini vogliono dire loro esprimere la propria opinione e che questo accada secondo me deve essere visto in maniera positiva e non in maniera negativa ovviamente è importante essere informati è importante farsi le proprie idee è importante capire di cosa si parla ma oramai una volta che questi temi sono usciti fuori come dicevo all'inizio è giusto affrontarli è giusto confrontarsi assolutamente anche perché poi la cosa che noto sempre molto spesso è che la legge deve essere rispettata da tutti i cittadini ma molto spesso i cittadini non vengono messi nelle condizioni di informarsi su cosa è contenuto all'interno della legge a parte le sanzioni penali hanno a che fare con una giustizia che spesso non funziona con processi che durano tanto con decisioni contraddittorie con tribunali che non sono magari luoghi confortevoli quindi c'è l'attesa per un diritto che viene negato oppure per un torto subito queste sono tutte situazioni che purtroppo poi ricadono direttamente sul cittadino benissimo allora io la ringrazio per la qualità e spero buon lavoro e buon proseguimento potremo riparlarne in futuro grazie arrivederci grazie a voi grazie mille grazie a voi grazie a voi grazie a voi grazie a voi